Prima delle piramidi e prima di Stonehenge. E' uno degli slogan che celebra il complesso turco di Gobekli Tepe, risalente a quasi 12.000 anni fa e considerato il tempio più antico del mondo. Per celebrarlo, fino al 2 marzo 2025, il Colosseo ospiterà la mostra Gobekli Tepe, l'enigma di un luogo sacro. Reperti fisici e un percorso interattivo apriranno le porte alla scoperta di questo patrimonio archeologico. Gokan Yazji, viceministro turco della cultura. Gobekli Tepe ovviamente per noi è considerata la porta sul Neolitico, che ci fornisce delle informazioni molto molto preziose ed è uno dei siti più importanti che abbiamo ovviamente oggi in Turchia e non è neanche l'unico. E' una struttura molto molto speciale per tutto ciò che riguarda la zona della Mesopotamia e per noi ovviamente poter rappresentare i nostri ritrovamenti e il nostro sito in un luogo altrettanto speciale come il Colosseo, ovviamente motivo di contentezza, motivo di felicità e di appunto di gioia. Ovviamente ci tengo a ringraziare la direttrice Alfonsina Russo per tutto il suo impegno, per aver reso possibile questa mostra, la realizzazione di questa mostra in un luogo così speciale come il Colosseo e noi il nostro sito archeologico Gobekli Tepe lo consideriamo il punto zero della storia, quindi in quanto ci fornisce delle informazioni che faranno rivalutare tutta la zona, tutto il periodo del Neolitico sia in tutta la Mesopotamia ma in particolare nella regione dell'Amatorio ovviamente. Alla cerimonia inaugurale, oltre alla direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo, ha partecipato tra gli altri il Presidente della Commissione Cultura, Scienze e Istruzione della Camera Federico Mollicone. Una collaborazione fondamentale soprattutto in un clima geopolitico così teso, soprattutto con la Turchia, soprattutto su una mostra che ci presenta una novità e una tesi importantissima, cioè quella che addirittura la celebrazione di riti e di spazi sacri e la consagrazione di spazi sacri precedano addirittura l'epoca dell'agricoltura e sia riferita alle popolazioni cacciatrici e raccoglite. Questa sarebbe appunto una novità che farebbe un po' riscrivere la storia anche dell'umanità.